Ben ritrovati al TG7 Basilicata. Il corpo di Riccardo D'Angeli, il camperista romano di 41 anni scomparso ieri a Campo Maggiore, è stato ritrovato dai carabinieri in Contrada Serra. L'ipotesi è che sia morto probabilmente folgorato. Il camperista era arrivato da alcuni giorni con il camper nel paese lucano per dedicarsi all'arrampicata sportiva. Grazie per l'attenzione e l'aggiornamento alle prossime edizioni. Arrivederci.